Siamo in onda con Silvia, che è lei, che sta facendo oggi la sua prima comparsata con noi e sta facendo un casino nucleare con i titoli, gli orari, i parcheggi, le cose. Cosa apprezzano le donne in una relazione? Allora, in primis l'attenzione che un ragazzo riserva alla propria fidanzata deve essere assolutamente un trattamento speciale rispetto a tutte le sue amiche donne e deve essere un po' come il proprio miglior amico. Io penso che, allora, appunto debba avere questa attenzione, debba saperla ascoltare, debba saperla rassicurare. Per esempio, io sono una ragazza che la sera ha paura di tornare da sola, quindi puntualmente chiamo il mio ragazzo o le mie amiche, in videochiamata, non chiamata, così, nella strada fra la macchina e casa mia. Cioè, quando parcheggio, si tratta sempre di parcheggio, ma quando parcheggio è casa mia, diciamo, questa è una rassicurazione, un'attenzione che una ragazza fidanzata, secondo me, ha in più rispetto a una ragazza non fidanzata. Ma tu vivi a Milano? Sì. Città? Sì, in un quartiere brutto, baggio. Ah, ok, ho capito. Quindi io, appunto, ogni sera, quando parcheggio, e non ho il box, quindi parcheggio dove trovo parcheggio. Ok, in strada. Esatto. Scendo in parcheggio, scendo dalla macchina e chiamo, anche se è una mia amica o il mio ragazzo o qualcuno, per farmi compagnia nella strada, che so che magari per alcuni non ha senso. Però, per me è rassicurante. Ok, allora, quando tu parli di trattamento speciale, no? Perché l'hai menzionato all'inizio, rispetto alle amiche, eccetera. Cosa intendi? Cioè, mi fai degli esempi pratici, operativi, che vadano a definire un'azione precisa? Allora, poi l'attenzione, per esempio, a cosa devi fare. Per esempio, ho un esame, vorrei che il mio ragazzo sapesse quando ce l'ho, che ora ce l'ho, su cosa ce l'ho, se sono preparata, se sono in ansia. Magari con l'amica non sai precisamente tutto riguardo all'esame che deve dare. Per esempio, il mio ragazzo deve saperlo. Ok, quindi praticamente il ragazzo deve essere, in una certa misura, informato e molto più interessato alla tua vita. Sì, assolutamente. Perfetto. E io alla sua, giustamente. Ok, un altro punto? Non lo so, sapere, avere un'attenzione particolare nel sapere come sto, come mi sento, cosa... Quindi ha il tuo stato emotivo? Esatto, infatti io faccio molto riferimento sul mio ragazzo al riguardo. Se sto male, io, vedendolo, diciamo, mi rassicura, mi sento meglio, mi tranquillizzo, diciamo, un po' il mio psicologo. Ok. Terzo punto, se riusciamo a trovarlo? Il trattamento speciale? Quindi abbiamo parlato di stato emotivo, cioè molto attento a come stai, un po' anzi. Poi, appunto, abbiamo detto di sapere molte più cose su di te. E poi? No, in generale... Che ti cerca di più di un'amica? Ah, beh, questo sicuramente. Ok. Sì, deve cercarmi, chiamarmi, scrivermi. Non troppo, perché anche io non sono una che sta sempre attaccata al telefono, però, insomma, quando serve, sì, bisogna sentirsi, aver la voglia di raccontare prima a me rispetto ad altre persone, per esempio. E viceversa anch'io. Ok. Tu hai detto che sei fidanzata adesso. Sì. Dimmi le cose che apprezzi più del tuo ragazzo. Aspetta, mia volta l'ho sprovvista. Ok. Eh, l'attenzione che mi riserva, sì, soprattutto riguardo l'università, mi sprona molto. Ok. Voglio studiare, seguire le lezioni. Quindi nel raggiungere i tuoi obiettivi? I miei obiettivi, sì. Anche riguardo alla palestra, vabbè, lui è... Bodybuilder, quindi... Quindi tu vuoi tanto di palestra? Sì. Beh, ultimamente no, perché mi concentro... Metto prima l'università, poi la palestra. Ok. Quindi ora è un attimo in precedenza l'università. Poi il lavoro, poi il ragazzo. Parto a posto. Non sei neanche sul podio. Scherzo, ovviamente. Eh, ok. Vuol dire che abbiamo detto un sacco di cose. Qualcosa do raggiungere? Abbiate cura della vostra ragazza. Ok. Ragazzi, te ne voto. Andate giù violenti. Un saluto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.